Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video io sono Song e oggi come vedete non sono solo ma sono con Fang un mio compagno dell'università ormai ci conosciamo da più di 10 anni e oggi lui è CFO dell'OPPO ormai penso che quasi tutti sappiate che azienda è OPPO ma perché non lo sapesse OPPO è un'azienda di smartphone cinese che ha avuto una crescita strepitosa negli ultimi anni in Italia e oggi ho il piacere di intervistare il loro CFO quindi partiamo subito ragazzi innanzitutto magari Fang ti presenti un attimo così ti fai conoscere ciao a tutti mi chiamo Fang e sono CFO di OPPO Italia ormai sono da più di un anno che lavoro in questa azienda è un'azienda super super bella super tecnologica e super innovativa e tu quando è che sei venuto in Italia o sei nato qui in Italia? no non sono nato in Italia sono cresciuto in Italia e sono qui da quando avevo quasi 10 anni e quando sei arrivato in Italia sei subito a Milano oppure prima abitavi in un altro paese poi ti sei trasferito? no sono arrivato in Italia non a Milano ma a Caserta ho vissuto quasi i primi 10 anni li ho vissuti a Caserta poi dopo sono arrivato a Milano e studiato qui a Milano e dopo la laurea ho continuato a rimanere qui a Milano per lavorare ok tu che percorso scolastico hai fatto? ho fatto la classica laurea economia alla Bocconi alla trienale poi specialistica di nuovo alla Bocconi con uno scambio in Svezia a Gottenborgo e dopo la laurea hai iniziato subito a lavorare alla Oppo oppure hai lavorato prima in altre aziende? no in Oppo sono soltanto da un anno e mezzo prima ho lavorato sia in aziende americane come la Deloitte che in aziende diciamo italiane e altre aziende multinazionali cinesi Oppo è l'ultima azienda in cui sto lavorando da un anno e mezzo ok raccontaci un po' tu che azienda è Oppo? Oppo è un brand nato in Cina nel 2001 e ha lanciato il suo primo prodotto di smartphone sui mercati nel 2004 da allora ha avuto una crescita esponenziale in pratica ha fondato filiali e ha lanciato prodotti in tutto il mondo all'inizio del 2021 addirittura Oppo è stato classificato come primo brand per numero di smartphone venduti in Cina in Italia addirittura nel 2021 siamo stati classificati come terzo quad doll venduti di smartphone sul mercato italiano per numero di telefonini venduti il macchia Oppo è nato e controllato da un altro colosso finanziario cinese che si chiama BBK BBK in pratica è un mostro della telefonia in Cina lui controlla 4 brand di smartphone in Cina Oppo, Vivo, Realme e Oneplus e in Italia Oppo quando è entrato? Oppo in Italia è arrivato nel 2018 a luglio di 2018 all'epoca non avevamo ancora nulla non avevamo né un ufficio né una quota di mercato abbiamo iniziato da zero e ci abbiamo messo quasi mezzo anno per costruire una base in Italia e creare una struttura su cui lanciare il brand e oggi in Italia Oppo che fatturato fa? nel 2020 abbiamo fatturato quasi 140 milioni di euro in Italia invece i dati relativi al 2021 non sono ancora pronti sono ancora stimati ma stimiamo che il fatturato sia più che triplicato e l'Italia è considerata un paese strategico per Oppo? assolutamente sì il mercato italiano è considerato un mercato strategico per i brand Oppo infatti abbiamo investito tantissimo in Italia lo si può vedere da tutte le collaborazioni da tutti i contratti di sponsorship che abbiamo con i vari brand in giro si può vedere il caso di Milan e se Milan in tutti i campi di calcio in tutte le partite di Milan si possono notare si può notare i brand Oppo e oggi in Italia il Oppo che market share ha rispetto agli altri brand in Italia a fine 2021 avevamo un market share del 12% più o meno per pezzi di smartphone venduti quest'anno puntiamo ad raggiungere un market share del 15% sul mercato italiano e che impatto ha avuto diciamo l'uscita o quasi l'uscita di Huawei dal mercato italiano sul fatturato sul market share dell'Opa anche perché sappiamo che dal 2020 Huawei ha avuto il ban dagli Stati Uniti quindi le aziende statunitense non potevano più collaborare con Huawei che le ha portato alla perdita di GMS, Google Mobile Services ma la cosa più importante è stata la perdita dei chip cioè non potevano più comprare i chip dalle aziende americane quindi anche produrre gli smartphone a 5G è stato molto difficile per Huawei quindi che impatto ha avuto questa cosa l'uscita di scena di Huawei in Italia ma un po' in tutto il resto del mondo a parte la Cina sul mercato interno cinese ha avuto sicuramente un impatto positivo per Oppo e anche per altri brand diciamo di Android però Oppo non è cresciuto soltanto per questo motivo Oppo è cresciuto per tanti altri motivi diciamo interni a se stessa la verità Huawei non è uscita completamente dal mercato dei smartphone in quanto un suo rete sta ancora continuando il suo lavoro che è Honor Honor sta ancora continuando il suo lavoro sta ancora lavorando sul mercato sta continuando a lanciare dei prodotti Oppo e altri brand di Android sicuramente hanno beneficiato da questa parziale uscita di Huawei Oppo è cresciuta velocemente e anche tanto ma non è cresciuta soltanto per l'uscita diciamo di Huawei è cresciuta anche per tanti altri motivi perché Oppo ha tanti vantaggi competitivi per conquistare il mercato ok secondo te c'è qualcosa di particolare che distingue gli smartphone di Oppo dai suoi concorrenti? secondo me sì diciamo soprattutto tra i smartphone Android Oppo è un brand maniacale è un brand maniacale sui aspetti di bellezza di estetica e di tecnologia ha un prezzo sostenibile per i consumatori poi Oppo è un brand molto molto giovanile punta tantissimo sulla fascia giovane parliamo dal punto di vista di smartphone andando sul sito di Oppo Italia ho visto che avete tre linee c'è il found Oppo Found X c'è la linea Reno e poi c'è la serie A puoi spiegarci qual è la differenza di questi tre linei così da aiutare magari chi è ancora indeciso se comprare Oppo quale modello comprare così magari gli diamo un aiutino su quale modello scegliere allora Oppo principalmente ha tre fasce di prodotti la prima fascia è la serie A la serie A è una fascia un pochettino più economica per chi non ha voglia di spendere tanto ma allo stesso tempo offre prodotti molto performanti invece la serie Reno è una serie diciamo come price band di media fascia di media fascia ma i prodotti sono molto belli sono molto giovanili e con i suoi target a cui vogliamo puntare giovani poi abbiamo la serie Find che è la nostra fascia più diciamo più alta più tecnologica più innovativa però costa un po' di più costa di più infatti noi puntiamo a un segmento di clientela che vuole spendere un pochettino di più e vuole diciamo avere sempre vuole avere sempre il massimo della tecnologia delle innovazioni che ci sono sul mercato in quel momento per cui il prezzo è un pochettino più alto a dicembre ho visto che è stato appena presentato il nuovo prodotto il nuovo flagship di Huawei Find N in Cina è già disponibile ma per mercato italiano quando uscirà nel mercato italiano e se ci può dare un'indicazione più o meno del prezzo Find XN in Cina ti è uscito in Italia non sappiamo ancora quando arriverà questo prodotto le date non sono state ancora decise purtroppo e sul prezzo? neanche questo è stato ancora deciso in Italia sul mercato italiano non c'è stato ancora un pricing per questo prodotto ma sarà più o meno sotto più penso sopra i 1000 euro sicuramente sopra i 1000 euro e sarà sicuramente se arriverà in Italia sarà di nuovo il nostro top di gamma il flagship phone però è un peccato perché quando presenta il prodotto e esce dopo un po' in Italia poi magari la gente perde un po' questo suo voglia di comprare per esempio parlo di Mac quando è stato presentato smartwatch di Oppo volevo subito provarlo ma poi sono andato a vedere sul sito e non c'era disponibilità è arrivato dopo un po' quindi dopo uno magari perde questo entusiasmo che hanno quando vede la presentazione di un nuovo cellulare e poi lo vuole avere subito hai assolutamente ragione ma l'azienda Oppo ha delle strategie nel senso che alcuni prodotti strategici come questo qua l'head quote vuole che sia testato prima sul mercato cinese e poi dopo lanciato su altri mercati cioè perché vedere la Apple quando presenta un prodotto e dopo subito 3-4 giorni lo puoi preordinare e dopo una settimana ti arriva in casa questa è una cosa secondo me è strepitosa e io spero che un giorno un'azienda di smartphone cinese che sia Oppo che sia altri brand possa arrivare allo stesso livello della Oppo in modo che dopo la presentazione io che sono così appassionato di tecnologia posso ordinarlo subito e poi magari dopo una settimana ma dopo due settimane averlo già in mano e testarlo in genere diciamo che i prodotti pochettino più normali Oppo riescono comunque a essere pronti nei giro di due o tre settimane dopo il lancio il lancio event in Italia questo qua il Defend XN è un prodotto veramente particolare ripeto in Cina a livello di head quote Oppo ha delle strategie particolari nel senso vuole che questo prodotto sia testato prima in casa e poi dopo lanciato con più tranquillità nei mercati overseas vi faccio l'esempio l'anno scorso abbiamo lanciato il Defend X3 e neanche dopo due o tre settimane il prodotto era già presente su tutti i canali di vendita e in futuro perché so che adesso vendete i smartphone di Oppo online oppure su altri negozi come Media World così no ma in futuro pensate di fare un vostro negozio proprio dedicato proprio vostro della Oppo dove esponete tutti i vostri prodotti con il customer care perché secondo me questo aiuta tantissimo nelle vendite no in Italia non esistono ancora le Oppo Store condivido pienamente con te l'idea che un eventuale o possibile Oppo Store potrebbe dare una mano forte a brand ma per un momento per vari motivi non abbiamo ancora deciso di aprire le Oppo Store magari state aspettando che cresca ancora di più Oppo per implementarlo in verità non è tanto diciamo un povero amati Mac T-Share come tutti sanno l'ecosistema dei prodotti Oppo non è così ancora così vasto quindi avere un Oppo Store solo per i prodotti Oppo è ancora diciamo troppo presto magari in futuro nel prossimo futuro nel senso tra un annetto o qualcosa faremo dei Oppo Store anche in Italia per permettere ai clienti di fare diciamo delle prove per avere un'experience dei prodotti Oppo ne Oppo Store per questo speriamo che nei prossimi anni potremo incrementare l'ecosistema dei prodotti in Italia i prodotti non è che non esistono i prodotti già esistono in Cina ma molti di questi non sono ancora importati in Italia per vari motivi a proposito di prodotti nuovi ho visto che recentemente come tutte le aziende tecnologiche anche l'Oppo è entrato nel mercato delle auto elettriche ci riesce a dare qualche maggiore informazione o ancora prematuro questo è ancora molto molto diciamo prematuro anche embrionale nel senso che Oppo ha appena annunciato di voler entrare nel mercato delle auto elettriche questo penso che richiederà ancora tanti anni per poter avere veramente un prodotto finito da lanciare sul mercato e puoi rivelarci qualche progetto futuro o qualcosa in arrivo qualche novità in arrivo non so se avete sentito dire l'anno scorso Oneplus e Oppo si sono fusi e sono diventati una singola azienda però sul mercato troveremo sempre due marchi diversi Oppo e Oneplus a livello di brand diciamo che i due brand saranno sempre separati e saranno sempre sul mercato troverete sempre smartphone T-Oppo brandizzati Oppo e brandizzati Oneplus e per i nuovi laureandi magari che vogliono andare all'Oppo dai qualche qualche consiglio assolutamente voi siete benvenuti siamo una società molto giovane molto dinamica in forte crescita Oppo Oppo Italia soprattutto parlo per Oppo Italia siamo sempre a caccia in ricerca di talenti di giovani che ci possano aiutare a crescere ancora di più in Italia a migliorare ancora il servizio il nostro servizio in Italia e la conoscenza del cinese secondo te è importante per poter lavorare in queste aziende cinesi in Italia la conoscenza del cinese è importante ma non è essenziale per poter essere accettati in queste società ci sono tanti ruoli tante posizioni che non richiedono la conoscenza del cinese basta la conoscenza dell'inglese e oggi in quanti siete a lavorare in Oppo Italia come Oppo Italia come dipendenti diretti abbiamo quasi 100 persone di questi colleghi qua una trentina sono persone che hanno origini cinesi poi il resto sono tutti quanti italiani o altre nazionalità ok perfetto direi che abbiamo chiacchierato abbastanza e io ti ringrazio per avermi concesso la possibilità di intervistarti bene ragazzi anche per questo video è tutto se avete altre domande scrivetemene sotto nei commenti cercherò di rispondere o magari chiederò a Fang se sono domande specifiche mi raccomando ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima bye bye bye